Ma tu hai capito che lavoro faccio? Io ancora no. Da quando ho tre anni che non si parla del tuo lavoro? Pronto? Sì, sono io. Volevamo informarla che il ragazzo dell'incidente ha decinuto. I parenti li avete già sentiti? No, non l'abbiamo ancora identificato, non aveva i documenti con sé. E di sicuro non mi è mai successo che qualcuno si prendesse così a cuore un morto sconosciuto. 13-19. Sì, è il terzo morto non identificato dall'inizio dell'anno. Era un ragazzino. Sì, ma non è stata colpa tua. Perché fare i conti ogni giorno con la morte ti fa apprezzare sul serio la vita. Hai qualcuno? Non avrei tempo per una cosa impegnativa. E sei felice? Io non te ne riconosco. Cosa ti prende? Se non avesse trovato me sulla sua strada non sarebbe morto. È il destino. Sarebbe ora di proporti come partner. Che ne dici? Scusami, ma forse è meglio se ci fermiamo qui. Siamo troppo diversi. Tu ci credi al destino? No. Scusami, ma forse è meglio se. Allora, io lo faccio. Ciao, ciao! Grazie a tutti.